Il prossimo fine settimana, il 31 maggio, si svolgerà l'undicesimo campionato italiano di Boccia alla Lunga, qui nella nostra provincia di Pesaro. E si svolgerà nella cittadina di Fossombrone e nelle vie di via Bellaguardia, dove c'è anche il parco nazionale, quindi è un ritrovo per gli amanti dello sport e gli amanti del picnic dell'aria aperto. Un evento organizzato dalla Proloco? Sì, un evento organizzato dalla Proloco, però in collaborazione con la San Martinese Bar e Sport, che è la squadra di Fossombrone, poi con la SD Valle del Metauro e con il patrocinio del comune di Fossombrone, quindi l'assessore, il sindaco e tutti quanti. A che ora sarà l'appuntamento? Alle due e mezza, quindi alle 14.30, si inizieranno i giochi per le qualificazioni del sabato. Chi passerà il turno giocherà anche la domenica per le semifinali e circa le 11.00-11.30 di domenica, 31, ci saranno le finali. Allora, rivolgo a tutti i telespettatori di Fanno TV un invito a venire a vedere questa gara per coniugare sport all'aria aperta, al tempo libero, con la famiglia, vicino al Parco nazionale della Gola del Furlo, che è stupendo in questo periodo.